Un tarocco degno del miglior totò. Non a caso, a tentare di metterlo a segno, un napoletano di 55 anni, già conosciuto dalle forze dell'ordine. La scena è via Roma qualche giorno fa. Un 85enne sta passeggiando quando si avvicina una bella Mercedes e scende un signore che subito approccia l'anziano. Non ci conosciamo, dice. Io mi ricordo di lei che faceva il farmacista, apostrofa al signore. L'anziano è un sussulto. Quel volto non lo ricorda, ma gli ispira subito fiducia. Iniziano a parlare, poi il 55enne tira fuori un orologio proponendo un buon affare. 700 euro per un modello esclusivo che diventano 350 col classico paghi uno, prendi due. L'anziano però si insospettisce anche perché gli orologi, per quanto belli, non sono poi così tanto famosi. Nel frattempo arriva una volante che nota la contrattazione. Fortunatamente la volante si è trovata a passare sul lungosile proprio nel momento in cui la truffa, il tentativo di truffa era in atto e fortunatamente è stato debellato. Quindi è stato denunciato un 55enne napoletano, di origine napoletane, che vive a Padova. Allo stesso è stato anche fatto un foglio di via e oltre che per tentata truffa è stato sanzionato anche per le violazioni sulle leggi sul commercio. Raccontiamo questo episodio perché la truffa è sempre in agguato, soprattutto per gli anziani. Perché il napoletano di cui parliamo può aver commesso in maniera seriale reati della stessa natura. Per cui invitiamo tutti a rivolgersi alla questura se qualcuno ha subito un reato dello stesso tipo con modalità simili.